Mamma che magnata che ci siamo fatti, non c'è trattoria in cui non si mangi bene e tanto e si paghi il giusto, alle volte anche poco rispetto a certi standard. Adesso ultima traversata della giornata, direzione Modica, questa è una provinciale fantastica, provinciale 106, peccato per il ventaccio, non so se si vede dagli alberi. Ma è giusto di qua? Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un po' dissestata questa strada, urco! Mamma che buco! C'è vento, si sente, vento laterale che mi arriva da destra. Bel drittone questa strada! Così dopo mangiato non vale però, cioè ci si addormenta eh! Faccio quasi fatica a tenere la moto, fatica no però, devo reggerla! Faccio quasi fatica a tenere la moto, fatica no però, devo reggerla! Faccio quasi fatica a tenere la moto, fatica no però, devo reggerla! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti